musica di realtalk fit massimo pericolo e ragazzuoli tanta tanta roba e l'ho ascoltato appunto una sola volta in live e voglio farci la reaction per bene ascoltarla bene e capire bene quello che dice ragazzuoli perchè avevo sentito delle parole molto molto accattivanti e quindi let's go boys immergiamoci subito in questa song in queste tre song ok bella realtalk bella kuma bella bosca bella cad che non è ancora arrivato sto arrivando sono massimo pericolo sono venuto qua per fare il rap fanculo rap trap drill cultura e pop è sempre rap mi piace rappare e dire il cazzo che voglio quindi fanculo sono contento faccio sta roba questo l'avevo capito anche da 7 miliardi ok non è a tempo raga è una mia opinione poi non so se sbaglio ditemelo eh ok 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 sta ribottato oh gg ok oh buono 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 raga ok 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 ora mi piace ah ora mi piace raga lì si vive in una villa la tua crue con la pattuglia la mia crue con la tua figlia fanno le vacanze in puglia dove vivono i gorilla qua vendono la barella per comprarsi la barilla ecco sopra l'auto con la squadra del terrore con la radio che vi impara che è davvero il più terrone noi beviamo come zozze dopo andiamo ad un festone che scendiamo in mezzi morti come quelli dal barcone buongioriamo le persone a basso dio buono 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 raga la tua faccia sta scherzando con la sorte zio se vuoi fare la box ritorni a casa come un boxer ok prendiamo la tua casa e le tue bitches chiamo a tutti i tuoi amici così almeno glielo dici ok raga ok ok sinceramente la prima parte mi sembrava un po' un po' fuori tempo ma sta migliorato ha migliorato sicuramente uoi ok 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 belle rime oh bello ha recuperato raga ha recuperato sicuramente in provincia con il cric nella sella click boom non si fotte con chi fotte nel borghetto fatiglione armino ghetto giù all'expo senza il biglietto oh bella questa perfetto al bar alpino con l'elmetto con i grandpa con il grappino e con la piuma sul berretto oh bella porca boia raga bravo si ora mi piace raga dai buono 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 perfetto dai scuola raga vediamo la seconda vediamo un po' ok ok come gli altri ma i problemi che hanno i pazzi non toglietemi la figa che altrimenti sono cazzo eh onesto buono buono figata bella ah raga ora si che ha subito raga no oh 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 ragazzi bella oh 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 vabbè che base ok raga 7 miliardi ah 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 sono la verità bocca chiusa ma occhi aperti fra porca che ficcata di base per morire fra non c'è un'età sto vestito bene per il funerale così fresco pare che devo scopare so fra le sue gambe clima tropicale credo solo in me non credo a nessuno non andrò all'inferno ci sono cresciuto questa sta spaccando eh fermi ok fermi raga ok 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 mi fa un bocchino mi fa un bocchino oh 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 come avete visto all'inizio del video io non sono un recensitore un ragazzo che fa spesso reaction infatti è la mia prima volta che faccio una reaction ma comunque ragazzuoli non sono un interprete della musica non sono un professionista che riesce a capire il flow il beat queste cassate varie però ragazzuoli questa sta spaccando eh gente pesante 100 kg prego dal niente non da sto pianeta aprono le gabbi ai canarini ma poi non sopravvivono nella foresta non lo scrivo in DM se non lo vede il PM per te niente borsa di pelle perchè sei una di quelle bitch quanto sei fake fra non sei drake faccio sei tape tipo in sei teke tipo AK tipo AK ratta vorrei più cash smetterò quando sarò rito non ho capito questa tu smetterai quando farò il disco ok quello che dici non l'hai mai visto io se l'ho visto me ne sto zitto ho una tuta di K sotto la tuta c'ho un K questa tipa è educata vuole scoparmi per strada ok mi prendo Varese si come un caffè Pietro è con me non ho bisogno di te quanta roba raga stavo in galera ora voglio un hotel 0332 gara che chi ci sta questo è brav come Io non so se ti sei gasato Come mi sono gasato io Perché sei veramente Iceman Iceman Però amico mio Cioè allora Avevo delle aspettative alte Di trucità Scusami il neologismo E di skills Me le hai Assolutamente Riempite Soprattutto nell'ultima canzone Soprattutto nell'ultima song Amico Zarro Cazzo Allora Mi ha colpito questa cosa Sei arrivato Abbastanza Dal nulla Vero Sette miliardi Io l'ho conosciuto Cioè secondo me Tipo la gente Che se ne accorta un po' così Perché in realtà Io non avevo iniziato Tipo l'altro ieri Ah immagino Non è normale Poi comunque ho fatto Cioè un po' di lavori Ho iniziato a pubblicarli E per un po' proprio Non ho avuto Successo Degnato Sette miliardi Sono successo Poi con sabbia ed oro Che mi è piaciuto tantissimo È confermato proprio l'impressione Come diceva prima Anche tu Ma quando eravamo fuori E poi sono uscito Con Shalla sempre Tra l'altro Sono uscito da poco Anche con Sul macete mixtape Esatto Con il brano Con fibra Esatto Sì Fare il pezzo con fibra Cioè un traguardo È fischia raga Il prossimo è diventare fibra È alto però Io senza nulla togliere Alla magnificenza Secondo me Un traguardo Dai Uno scalino sopra Lo raggiungerai Sopra fibra È stato molto molto Bravo ragazzoli Il flow Le rime Il beat Soprattutto il beat Dell'ultima Dell'ultima parte Ragazzoli Qualcosa di veramente Assurdo Fatemi sapere la vostra Qui sotto Se l'avete già ascoltata Mi raccomando Fatemi sapere Come ho detto Le vostre reaction Le vostre Riconsiderazioni Qui sotto Nei commenti E niente ragazzoli Secondo me È partito male Poi ha ripreso E si è superato Secondo me Si è superato Veramente tantissimo Quindi GG Per massimo pericolo Io raga Vi mando un bacione grandissimo Qui dal DJ Lucius Ormai è tutto Bella Boys Grazie a tutti